Prosegue l'adesione del Comune di Lecco al progetto ESO Sport che prevede il riciclo delle scarpe con la suola in gomma per produrre pavimentazioni di parchi giochi e piste sportive. 27 i contenitori presenti nelle scuole dedicati agli studenti di materne, primarie e secondarie di primo grado e 2 i punti di raccolta per tutti i cittadini presso l'Informa Giovani e presso il Centro Sportivo del Bione. A breve sul sito di ESO Sport sarà possibile fare un primo monitoraggio del quantitativo di materiale raccolto finora. Questo progetto garantisce un duplice vantaggio, spiegano Alessandra Durante, assessora ai giovani del Comune di Lecco e Renata Zuffi, assessora all'ambiente. Da un lato permette di togliere le scarpe o un rifiuto ingombrante dal sacco rosso, riducendo ciò che diventa rifiuto indifferenziato. Dall'altro, grazie alla collaborazione di tutta la comunità e a un processo specifico di riciclo, ci permette di ottenere il materiale antitrauma senza costi aggiuntivi, un progetto di economia circolare a cui possono contribuire tutti i cittadini. Le ESO Box sono state posizionate nelle scuole del capoluogo a inizio di quest'anno, in seguito all'adesione del Comune. Si tratta di un progetto nazionale pionieristico, nato nel 2009 proprio con lo scopo di favorire l'educazione al riciclo partendo dai più piccoli e, a quegli oggetti che si consideravano a fine vita, dare una nuova chance nell'interesse di tutti i cittadini.